Danza Autori, Sperimentatori, Comunicatori Torna il Festival Internazionale di Danza Contemporanea Visioni di Parte Una sesta edizione per una rassegna molto attesa di divulgazione della cultura del corpo ideata e curata dalla compagnia Qualibò in collaborazione con l'associazione tra il dire il fare e il teatro Chismet Opera e con il sostegno della regione Puglia e del teatro pubblico pugliese un evento tra i più riconosciuti radicati sul territorio che vede Antenna Sud come media partner e che ha allevato nuove ed interessanti generazioni di danzatori ed autori Noi abbiamo una sezione che si chiama Fare, Tessere e Incontrare A marzo-aprile mandiamo un bando alle tantissime scuole di danza presenti sul territorio regionale, sono veramente tante mandiamo questo bando e invitiamo le scuole a partecipare al festival ma non con una coreografia come solitamente si fa nei concorsi di danza ma con un vero e proprio corto coreografico Visioni di Parte, pensato in quattro sezioni Danze Cave, Fare, Tessere, Incontrare e Indivenire e Labor nasce dalla voglia di concentrare l'attenzione sui diversi linguaggi dell'arte contemporanea linguaggi che raccontano la realtà in ogni suo aspetto e che sorprendono per strada in luoghi chiusi ovviamente in teatro contaminandosi senza confini domani nel Teatro Chismet Opera di Bari sarà la volta di Cosa Vedi della compagnia Qualibo e delle danze da tavolo di Claudia Drago Corinna Mancino, Rosanna Fregola e Massimo Zenga che apriranno la serata fino al 9 ottobre poi la mostra fotografica Il Corpo Interiore di Tina Massaellis ad evocare paesaggi interiori ricchi di valenze espressive e la continua ricerca di modelli di conoscenze di rapporto con l'interiorità e il mondo il Corpo Interiore di Giovanni